Eccoci, siamo in diretta. Ebbè, siamo a Fano, una città con una grande storia. Credo che le persone che hanno combattuto per la libertà sappiano che per la libertà si può perdere la salute, ma per la salute non si può perdere la libertà. È iniziato con questo filmato caricato sui propri canali social l'infuocato fine settimana del ristoratore Umberto Carriera. Salito alla ribalta della cronaca nazionale nelle ultime settimane per la decisione di tenere aperto in orario serale uno dei suoi locali per protestare contro le nuove norme del decreto, l'imprenditore è stato affiancato questa volta dal deputato Vittorio Sgarbi, che nella serata di venerdì lo ha raggiunto nel suo locale fanese per cenare oltre al limite orario consentito prima di recarsi a San Marino. La serata è terminata con una sanzione da parte della polizia nei confronti del titolare e con l'identificazione e le successive multe per gli altri ospiti presenti all'interno del ristorante. La protesta del ristoratore pesarese però non è terminata con questo episodio. Dopo il severo commento del sindaco di Fano Massimo Seri su quanto accaduto, Carriera e Sgarbi hanno invitato il primo cittadino fanese insieme al sindaco di Pesaro Matteo Ricci ad un confronto organizzato per la sera successiva, quella di sabato. L'incontro però è stato declinato da entrambi. Anche Maurizio Gambini, primo cittadino di Urbino, che aveva inizialmente dato disponibilità sulla sua presenza, all'ultimo ha deciso di non presentarsi. Nonostante il rifiuto da parte di Ricci e Seri, l'incontro tra Carriera e Sgarbi nella serata di sabato si è svolto comunque, all'interno del locale dell'imprenditore pesarese situato a Candelara. Un'occasione, come riferito dal critico d'arte, per parlare dell'idea di far scendere in politica Carriera, come lui stesso ha raccontato ai nostri microfoni. L'idea che ci sia un luogo dove l'attenzione e la prevenzione del rischio, che sicuramente è una cosa importante, cercare che le persone non si contagino o perlomeno di limitare il contagio, non può essere un dato geografico o orario, mi pare un dato importante. Quando tu a San Marino, non avendo l'Unione Europea che ti sorregge, hai dei ristoranti in cui limiti il numero di persone che sono a 30, che tu lo faccia alle 13 o alle 20, non cambia sostanza, non è che il virus può rifondersi se c'è un assembramento, ma che la cena sia alle 13 o alle 20 è del tutto indifferente. Quindi su questo il Ministro del Turismo è stato molto preciso. Ritengo che Carriera abbia dato prova di un fortissimo temperamento politico, per cui lui rappresenta non un ristoratore, ma un politico che io sarò felice di candidare alle prossime elezioni politiche. Mentre ho una presumibile certezza che salvo che non si ricoveri con il PD, l'amico di Matteo Renzi con Italia Viva, messo che quello sia il campo in cui si muove, non sarà rieletto. Quindi per Matteo Ricci vedo, a parte che non sarà eletto come sindaco, ma non vedo neanche un Parlamento vicino, quindi vedo un'ottima prospettiva come ristoratore. Gli auguro di aprire un ristorante senza carriera, naturalmente, mentre come ho detto auguro a Carriera di fare una luminosa carriera politica. Vittorio oggi è stato a San Marino per documentare quella che ormai è la vita normale. Vittorio voleva una sorta di confronto per spiegare le motivazioni per cui i primi cittadini difendono così a spada tratta quelli che sono gli attuali di PCM. Il sindaco di Fano, Massimo Seri, ha poi invitato i due protagonisti di questo movimentato fine settimana ad uno scambio di opinioni per il pranzo del giorno seguente, incontro che però non c'è stato. Dal canto suo, il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, ha infine dichiarato che non presenzierà a nessun incontro con Carriere Sgarbi, invitando i due a rispettare le regole imposte dalle misure del decreto. Non andrò a nessuna cena e a nessun incontro perché a Pesaro le regole si rispettano e sono stanco delle provocazioni. Noi abbiamo bisogno di stare vicino alle categorie colpite, come ho fatto sabato in piazza, cercando di far avere questi ristori il più velocemente possibili con le risorse stanziate dal governo, nel decreto ristori 1 e nel decreto ristori 2. Dall'altra invece dobbiamo far rispettare le regole. Le regole si rispettano, i locali sono stati chiusi, dove sono state trasgredite le norme, per 5 giorni vengono chiuse dalla Polizia Municipale, poi spetta al prefetto o al questore stabilire ulteriori chiusure. Non si scherza, con la pandemia dobbiamo tenere la guardia molto alta, a Pesaro le cose vanno meglio rispetto al resto della regione e del paese, ma sappiamo che stanno crescendo i casi anche da noi, quindi dobbiamo essere molto scrupolosi, molto rigidi sull'applicazione delle leggi e chiedere grande responsabilità a tutti. Quindi basta provocazioni, basta perdere tempo con queste cose, non abbiamo tempo appunto da perdere, dobbiamo stare vicino alla gente e avere grande equilibrio in queste settimane molto difficili.